Semplificazione amministrativa e collaborazione tra le istituzioni del territorio. Queste le finalità della guida ai servizi online più semplice, realizzata dal Comune di Arezzo grazie alle risorse del progetto della Regione Toscana denominato Certo, Servizi Toscani, finanziato dal Ministero dell'Interno. Ora è possibile dalla pubblica amministrazione ottenere molti servizi online senza recarsi di persona e noi cerchiamo di promuoverli, noi Comune di Arezzo, ma insieme alla Prefettura, alla ASL, alle scuole, alla biblioteca, alla provincia di modo che il cittadino può sapere e trovare la modalità di accedere ai certificati anagrafici, all'iscrizione scolastica ai corsi di formazione e lavoro, alla prenotazione di prestazioni sanitarie, pagamento ticket, eccetera. Utilizziamo per questa diffusione fondi europei per l'integrazione per consentire e facilitare l'accesso dei cittadini straordinari e questo ci dà la possibilità di diffondere i servizi anche ai cittadini italiani. Più semplice è un bottone che si trova nell'home page del sito del Comune e si troverà presto anche in quelli delle altre amministrazioni di Arezzo e poi della Toscana. La Casa delle Culture sarà punto di riferimento in accordo con i soggetti pubblici coinvolti per realizzare un sistema di supporto utile agli operatori addetti all'erogazione dei servizi online per migliorare la conoscenza e le capacità di accesso dei migranti a tali servizi. Il bottone più semplice sarà presente nel sito della Casa delle Culture e poi il sito della Casa delle Culture è il centro, diciamo, di tutti i servizi online perché all'interno sarà presente una pagina dedicata a questo tipo di servizi e sarà continuamente aggiornata perché stiamo in contratto con tutti gli enti erogatori pubblici di questi servizi. Grazie. 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 Grazie.